Professor Gandolfi, il decorso post-operatorio della chirurgia del glaucoma, quali sono i dati? I dati sono confortanti per quanto riguarda i risultati, sono preoccupanti per la necessità di gestire il post-operatorio non soltanto nei primi mesi ma degli anni a venire dopo un'operazione di glaucoma e la collaborazione tra chi ha operato il malato e chi poi deve gestirlo è essenziale in tutto questo. La tentazione che si ha quando l'intervento di glaucoma nel tempo comincia a mostrare il fiato corto è quella immediatamente di ricorrere alle gocce, alla terapia medica, considerando fallito il tutto. Invece bisogna cercare di lavorare, vi sono manovre di cui abbiamo parlato, che permettono di poter rivitalizzare un intervento che sta iniziando un po' a zoppicare e queste si possono, anzi direi che si devono fare in ambulatorio. Per quanto riguarda l'occhio e la pressione, quali sono le problematiche? Le problematiche sono che all'occhio non piace avere la pressione troppo alta, il problema è che siamo tutti diversi e soprattutto cambiamo anche nel tempo, per cui contrariamente alla pressione del sangue che ha dei valori massimi e minimi che vanno bene per tutti, nel senso di limiti alti e limiti bassi. Per l'occhio il discorso è diverso, vi sono le cosette pressioni di sicurezza che in ciascuno di noi vanno stimate, vanno previste, vanno raggiunte e anche nella stessa persona per magari malattie che il paziente può sviluppare nel corso degli anni, la pressione di sicurezza va riconsiderata. È chiaro che non c'è un numero magico, come invece ci avevano insegnato tanti e tanti anni fa, il mitico 21 mm di mercurio, non c'è più. Non c'è un magic number, ma c'è un intervallo di valori che va considerato in ciascun singolo paziente. È, diciamo, meno automatico, ci rende meno computer, ma ci rende un pochino più medici. A livello europeo con il progetto di ricerca Horizon 2020, con i fondi del programma Sanità pubblica in vigore fino al 2020, viene incentivata la sinergia tra università, centri di ricerca in un'ottica traslazionale. L'oculistica in questo ambito ha un suo ruolo, quale? A me piacerebbe che avesse un suo ruolo vero e proprio. Finora stiamo andando un po' al traino, nel senso che l'oculistica entra quando fa parte di scenari più grandi, per esempio malattie genetiche che riguardano l'occhio, allora ecco che entra in ballo anche l'oculista, riguardano anche l'occhio, malattie metaboliche che hanno delle complicanze oculari, e allora ecco che l'oculista entra a bordo di una nave che però non guida lui. Sarebbe molto importante portare come si dice nel radar delle autorità, non soltanto ovviamente nazionali ma soprattutto sovranazionali europee, l'occhio. Per questo vi sono agenzie europee che vanno a monitorare qualità della ricerca e agiscono, si dice, da lobbying, ovvero sia supportando e sensibilizzando le commissioni europee sui problemi legati alla vista. E questo è una cosa indispensabile da fare, perché altrimenti in caso contrario l'oculistica viene relegata un po' come la cenerentola. La professione dell'oculista però è in evoluzione grazie alle nuove tecnologie, quindi è importante fare aggiornamento e questo congresso è utile? Per quanto ho potuto vedere sì, per quanto conosco io la società che l'organizza, che è il gruppo oculisti ambulatoriali liberi, il Goal, assolutamente sì e questa è un'iniziativa da implementare e non perché ne sono ospite, ma mi fa molto piacere vederla nascere, fa parte di quelle iniziative che le chiamano bottom up, cioè che partono dal basso e che dovunque arrivano in alto partono sempre con delle basi molto solide, per cui aiutano, informano, condividono. Questo mettendo però una figura che è quella dell'oculista al centro, mentre oggi rischio quello che con tanta tecnologia si metta al centro la tecnologia, lo strumento, e si metta a margine il medico. Il Goal, per quanto lo riesco a percepire io, è un gruppo che già nel suo nome mette l'oculista al centro della scena e quindi credo che sia assolutamente un'iniziativa positiva.